e bentornati in un nuovo video oggi voglio parlare di come crescere su instagram non utilizzando bot non comprando followers e non facendo cose strane ma utilizzare instagram nel modo corretto per poter crescere ci sono 4 5 trucchetti che vedremo insieme una delle cose fondamentali è il tema tema inteso non solo come un tema di colore come va ultimamente ma poi inteso come tema come argomento che viene trattato un profilo che tratta sempre lo stesso argomento e ogni tanto ha qualcosa fuori fuori tema a molto più a molte più possibilità di essere comunque seguito o diventare virale rispetto a uno che ogni giorno possa cose diverse ad esempio il mio profilo è principalmente di viaggi e travel fotografi o qualcosina di street comunque legata molto al al travel e continua a postare sempre solo foto di questo genere sia domani dovessi postare un qualcosa che non c'entra niente come fosse un cellulare è normale che la maggior parte dei miei followers mi segue proprio perché io posto foto di viaggio quella volta che seguo il cellulare riceverà comunque i suoi like ma saranno molti inferiori quindi il primo consiglio che vedo è postare sempre e solo un argomento se la vostra idea è quella di avere un profilo che possa crescere che possa essere costante è utilizzare un argomento o comunque derivati secondo consiglio hashtag come utilizziamo gli hashtag nel modo sbagliato molti di noi i miei ho compreso fino a qualche tempo fa utilizzavo gli hashtag in modo sbagliato ed era quello di mettere gli hashtag più popolari 30 tutti insieme sotto la foto questo è sbagliato perché non ci permette di diventare mai popular in nessuno degli hash in cui siamo messi perché c'è talmente tanta concorrenza e sono talmente tanto grandi che finire nei popular diventa molto difficile finire nei popular noi ci serve tantissimo per poter poi essere visibili dagli altri quindi il mio consiglio è quello di utilizzare in ordine dagli hashtag meno famosi meno popolari a quelli più popolari quindi puntare anche su quelli di nicchia quelli che hanno meno di 500 mila contenuti o anche meno di 10 mila sarà più facile così posizionarci nei popular e quella gente che comunque andrà a vedere quei tag vedrà le vostre foto e non si perderanno nel nel miscuglio il terzo trucchetto è quello di postare all'orario giusto se avete un account business o un account professional avete nelle statistiche potete vedere il momento migliore in cui i vostri follower interagiscono con voi nel momento in cui non avete questa opzione l'importante è postare sempre allo stesso identico orario tutti i giorni due volte a settimana tre volte a settimana siate costanti sempre allo stesso orario in questo modo abitueremo i nostri follower a ricevere nostre informazioni nel nel momento giusto e potremo avere anche poi delle statistiche un po più personali per vedere quanto quella foto è piaciuta più di altro senza dar colpa agli orari naturalmente il giorno della settimana influisce quindi il weekend magari meglio evitarli e tendersi di più la settimana il quarto trucchetto riguarda l'iterazione con gli altri dal momento in cui possiamo una foto con determinati hashtag come abbiamo visto prima dobbiamo interagire con le persone che hanno gli stessi identici hashtag questo cosa comporta che se noi commentiamo loro molto probabilmente loro commenteranno noi abbiamo gli hashtag comuni l'algoritmo di instagram è contento di questa cosa forse questo si ipotizza e di conseguenza vi aumenta valore per quegli hashtag che avete utilizzato quindi appena finito di postare la foto prendete gli hashtag come diciamo quelli con meno concorrenza e commentate le foto lasciate stare i like o meglio sì mettete i like a qualsiasi foto vi piaccia ma commentate le foto i commenti devono essere commenti veri non nel classico commento di a bella foto a bei colori cerchete di rispondere a una descrizione se la descrizione è presente o di commentare la foto per quella che almeno sembrerà un commento vero e non un commento finto da bot da da fake account in questo modo avrete anche più possibilità che l'altra persona potrebbe essere interessata le vostre foto e quindi commentare le vostre se le vostre foto vengono commentate commentate immediatamente vanno sempre sempre ciao meglio scusate rispondete immediatamente vanno sempre sempre risposti i commenti perché il conto dei commenti raddoppia se voi ricevute ricevute se voi ricevete 10 commenti con 10 risposte sono 20 commenti totali sulla foto e così l'engagement della vostra foto aumenta come ultimo consiglio è quello di chi seguire non seguite chiunque conosciate se ci sta a seguire amici e parenti per anche una questione morale io vedo vivere comunque al di là di chi seguite il mio consiglio è seguite sempre profili simili ai vostri questo farà in modo che le stesse persone che vengono seguite hanno più possibilità di seguirvi o meglio la vostra possibilità di essere seguiti da persone simili a voi è più alta se io seguo un profilo che parla di solamente esclusivamente ricette la possibilità che segua il mio profilo che parla solo esclusivamente di macchine è veramente bassa quindi creare una piccola nicchia un piccolo una piccola community legata allo stesso argomento che in primis è la fotografia e in secondis è l'argomento che scegliete anche se instagram è un social fotografico o non un social di fotografia questa la potete rivendere anche se forse l'ho letta da qualche parte non lo so detto questo questi erano i cinque consigli veloci in ordine sparso per quando postate una foto per crescere organicamente su instagram ma l'importanza è sempre fare belle foto essere costanti e essere amichevoli ciao 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 ciao